Ciao, ciao, bentornata, come stai? Spero tutto tutto bene. Ah, mi fa piacere. Sì, sei venuta qui per l'appuntamento che avevamo fissato proprio qualche giorno fa. Per fortuna sono riuscita a trovarti in uno spazietto libero. Sì, stiamo avendo davvero tanta tanta richiesta. Certo, perché comunque fa caldo, quindi è un nuovo trattamento che sta piacendo molto. Poi c'è anche l'offerta, sì, quindi stanno accorrendo in molti. Eh, sì, fatte. Scusami un attimo, mi suona il telefono. Pronto? Salve, sì, siamo noi. Un appuntamento? Sì, sempre per l'offerta. Sì. E no, guardi, in realtà sto vedendo proprio ora sull'agenda e siamo veramente benissimi. Domani non è possibile. No, no. Possiamo fare lunedì. Che dice? Ok, ok, vado per lunedì. Anche 17. Massaggio rinfrescante, sì. Massaggio rinfrescante, sì, sì. Sì, ci sarò io. Ok, arrivederci. A martedì. Buona giornata. E vistomi, tempestano ti telefonate per questo nuovo trattamento. Sì, siamo molto contenti che stia piacendo. Allora, preparati così iniziamo subito, ok? Sì. Posa le tue cose e vieni qui davanti a me. Ah, ecco di qui. Innanzitutto, complimenti per questa cologcina. È bellissima. Dove l'hai acquistata? Ah, ho capito. Quale bellissima negozio vicino a casa mia. Molto, molto, molto bella. Per un doppio modo, voglio toglierla perché altrimenti sì, mi è un po' difficile. Ok. Ma vedi che carina. È davvero fatto molto bene. Sì. Ok. Allora, innanzitutto, voglio prima spruzzarti un po' di una lozione che ti stricca i capelli, così mi è più facile vettinarli. Sì, è questa qui, della Nashi Argan. Sai che utilizziamo molto questo marchio? Ci troviamo molto bene. Sì. Shaker un po'. E poi vedrai, anzi, sentirai che bel profumo. Ok. Che profumo. Sì, è proprio adatto per l'estate. Se si può acquistare, se vuoi, lo vendiamo. Prendo la spazzolina, prendo la spazzolina e ti pettino innanzitutto un po' i capelli. Ma tu raccontami un po' come stai, che mi dici. So che sei a prosciutto di sposarti. Sono molto felice per te. Ti pettino anche un po' qui la fraccetta. Sì, oh che cara, grazie. Sono molto felice di partecipare al tuo matrimonio. Che bel pensiero. Certo che mi fa piacere. Ora va molto meglio se avevi un po' di nodini. Ok, ora ti prendo la lozione. Che è questa qui. Sì, c'è il colore, dice tutto. Questo si è composto principalmente da eucalipto. Ed è questo che dà quella sensazione molto forte di freschezza. Sì, è adattissimo per l'estate, ma si può usare sempre. Perché dà anche un'azione talificante per i capelli. Quindi, sì, anche questo vendiamo, certo. Ora te lo faccio provare. Ovviamente il trattamento con il massaggio è molto meglio. Allora, ti metto qualche goccina. Ok, va bene. E già, sì. Sì, già si sente tantissimo. Guarda anche toccare. È un sollievo, sì. Ora te lo passaggio bene. Su tutto, tutto, tutto il cuoio, il capelluto. E poi procediamo. Sì, prima facciamo questo movimento in modo che si va ad attivare bene. E poi dopo massaggiamo. Ok. Ora, va bene. Il massaggio. Tu puoi anche chiudere gli occhi perché appunto è rilassante. Sì. Ecco, sì, procediamo prima. Sì, nel frattempo ti spiego un po'. Allora, prima procediamo delicatamente sulla fronte. Sì. E sotto tutta la parte laterale della testa. Con questi movimenti molto delicati, inizialmente, circolari. Così. Fino ad arrivare dietro l'ambica. Sì, a parte che qui noi accumuliamo tanta tensione qui dietro. Sì, però diciamo, adesso noi ovviamente approfittiamo del trattamento rinfrescante anche per fare un massaggio che distende un po'. Sì, tutta la tensione. Questo è un massaggio sia rinfrescante che rilassante. Ora, facciamo questo movimento sulla superficie della testa. Questo movimento favorisce il rilassamento perché fa provare tutti e tutti i proiettini. Sì, quindi ci potresti tranquillamente addormentare con questo tipo di massaggio. E poi, questo movimento permette anche di salto così il tonico attecchisce sempre meglio sulla cute e dilunerà questa freschezza per un po' di odore. Sì. Ecco qua. Ma no, guarda ti sta molto bella la frangente, secondo me devi lasciarla. Sì. Mi piace molto. È vero, non a tutti sta bene. Infatti a me pure piace, però non mi ci vedo. Mi piace solo alcune persone. Tipo a te sta molto bella, ripeto. Ma ora chiudi gli occhi e rilassati. Bene. Ora devo preparare la cute, tutta questa zona qui, sì perché poi devo mettere la lozione fissante, uno spray fissante. che permetterà che, esatto, sentirà questa sensazione di fresco per molto molto tempo. Sì, allora prendo questo attrezzo qui e divido bene tutti i capelli. Ok. Adesso. 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 Ok. E ora sempre con quel postoncino lo fisso. Bene. Prima dove in mezzo ha la tua fila. Così lo faccio adecchire ben bene e poi dopo completo il massaggio esattamente Ok, quasi fatto Ok Ora completiamo il massaggio Sì, guarda, rilassa tanto anche i miei far massaggi Mi piace sia parli che riceverli Ok 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 Sopra le oreggie Ok 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 l'abbiamo messo bene sulla superficie le tagliate un po' per l'ultima volta l'ultima volta che ti ho visto ricordo che le vedi molto più lunghi e hai fatto bene con questo caldo l'ultima volta l'ultima volta ecco ecco ti piace il suo però mi rilassa tantissimo questa zona qui quando viene massaggiata quando viene massaggiata quando viene massaggiata ok ora ti pettino un po' perché veramente ti ho scombinato tutto si è completamente assorbito ora ok ok mi metto la tua corozina che è bellissima c'era anche altri colori oh che bella oh non so se a me starebbe bene però è molto bella ecco ecco di sistemata ma certo puoi ritornare quando vuoi a presto certo poi ci sentiamo a presto a presto a presto a presto a presto